Oggi è martedì, ho un sacco di cose da fare, sarà una giornata piena 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 e ho anche un sacco di cose da raccontarvi e tra l'altro poi vi farò vedere qualcosa che arriverà a breve in cui studio. Tra l'altro i più attenti si saranno accorti che è tornata la D-Dram, dato il fatto che purtroppo devo cambiare le pelli sulla creccio e infatti sono arrivate anche questa settimana. Pulisco un po' lo studio, metto a posto tutte le aste, risistemo un po' tutta l'attrezzatura, inizio a montare ed editare il video e poi oggi pomeriggio vi porterò a ritirare il pacco che deve arrivare qui in studio. Ho finito da poco di montare ed editare tutto l'audio appunto della nuova drum cover, ho iniziato anche a far montare appunto il video. Ed ora... Oggi è mercoledì, ieri pomeriggio sono stato con la mia ragazza a ritirare il pacco di cui vi parlavo in questi giorni. All'interno del pacco c'è il condizionatore per lo studio, anche perché appunto ne avevo bisogno perché dentro questo studio non c'era. L'ho voluto comprare e a giorni me lo dovrebbero installare. Detto ciò, ieri con appunto il ritiro del condizionatore mi hanno dato anche in regalo queste lucine qui. Sono 20 metri di lucine composte appunto da mille led. Appunto rimanendo nel tema natalizio le andrò a mettere al soffitto per abbellire lo studio. Buongiorno, oggi è giovedì. Ieri comunque ritendo e scherzando è stata una giornata abbastanza piena, non sembrava, perché era appunto partita come una giornata proprio tranquilla. Invece era una giornata strapiena e tra l'altro tutt'oggi è una giornata ancora più strapiena rispetto a quella di ieri. Ma a parte ciò, alla fine ieri pomeriggio non sono riuscito a montare le lucine che le volevo mettere al soffitto, quindi molto probabilmente se ho tempo lo farò oggi pomeriggio. Tra l'altro ieri appunto ho finito di fare una piccola cosa che dovrò mettere in qui studio, ovvero ho cercato di fare un tappeto personalizzato. Appena avrò finito tutto ciò ve lo farò vedere. Ieri pomeriggio all'ultimo ho dovuto fare anche una piccola registrazione con la batteria. Se hai bisogno di qualche registrazione di batteria non esitarmi a contattare, trovi tutti i link qui sotto che ti portano alla mia pagina Fiverr o addirittura alla mia pagina Instagram dove puoi trovare la mia email e contattarmi direttamente lì. Oppure in direct. Oppure sulla mia pagina Facebook tramite messaggio. Ma tornando al discorso lucine non vi ho fatto vedere una cosa che ho montato sulla scrivania. Ora detto ciò, iniziamo a lavorare. Sono passato un po' di ore dall'ultima clip che ho girato questa mattina. Appunto questa mattina abbiamo iniziato a montare le lucine. Purtroppo l'ho dovuto rismontare perché come le stavamo montando non mi piacevano molto. Ho dovuto finire anche dei lavori e quindi ho lasciato perdere un po' le lucine. Ora appunto ho finito tutto ciò. Mi ci metto probabilmente adesso per qualche minuto e poi continuerò sicuramente domani. Mi ci metto probabilmente è un po' di ore dall'ultima. Allora la situazione è questa. Sembra una cosa facile invece sto riscontrando un po' di problemi a mettere queste lucine. Anche perché ancora non abbiamo proprio in mente di come metterle. Se metterle al soffitto, se fare il giro insomma a tutto lo studio. Quindi ci sono un po' di cose. Poi mi manca anche lo scotch, quello trasparente. Perché ho visto che comunque forse è l'unica cosa per farle reggere. Ma adesso facciamo un unboxing di un pacco che mi è arrivato ieri sera. E tra l'altro è un regalo del mio compleanno fatto dal mio gruppo e da amici e parenti. Quindi adesso vado a prendere e facciamo l'unboxing insieme. Allora, so già cos'è perché ho fatto già l'unboxing prima in casa perché non resistivo. E quindi ecco a voi il mio basso. Vado a spellicolare. Allora, pellicola tolta. All'interno del basso mi danno cinta per custodia, custodia per il basso. Il jack con delle brugole appunto per, penso, per il manico e altre cosine. E poi cinta e plettri per il basso. Detto ciao ora mi metto un po' a suonarlo. E noi probabilmente ci vediamo appena pranzo. Sono ora le sei. Ho pranzato. Ho fatto le ultime cose che dovevo fare anche al computer. Ho continuato a montare qualche video. Ho iniziato a montare anche questo video. Adesso appunto mi faccio dare una mano dalla mia ragazza. e iniziamo a montare le lucine qui in studio. Ho iniziato a montare delle cose che doveva fatto anche questo. Ho iniziato a montare le lucime. Come la faccio dare una cosa suonaricher Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, 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 ciao.